Saluto a tutti gli amici di Accord, sono Italo Jovene, proprio il manager della divisione acustica della Gold Music, siamo qui all'acustica di Sarzana. Quest'anno abbiamo diverse novità interessanti, abbiamo recentemente acquisito un marchio che comunque è molto conosciuto, famoso come Colclar, quindi abbiamo portato a Sarzana modelli più interessanti come la FL3 che sicuramente è la regina, il modello più interessante con Tassiere e Ponte Nebbano, rifinitura ovviamente in lei in abalone e anche sulla tavola armonica, i legni, i soldi, l'oro sono il bungia per la tavola armonica, acero del Queensland o Blackwood come essenze per farce fondo, non disdegna neanche di usare legni come il palissandro, quindi c'è anche delle essenze più tradizionali. Cosa molto interessante è il nuovo sistema che è stato introdotto da poco, che è stato presentato in Nemsoni Los Angeles, è un sistema che oltre ad avere il trasduttore under saddle, solito l'oro, i cilindretti un po' stile vecchio tagamine, che va veramente molto bene, è l'oro face breath sensor, che è un sensore che rileva le vibrazioni della tavola armonica, hanno aggiunto anche una caposola, un microfonino, all'interno dello chassis del preamplificatore, quindi diventa un triplice sistema che effettivamente è molto molto efficace, infatti lo strumento è considerato per l'utilizzo live uno sicuramente dei migliori e con il microfono ha un'aria, una qualità di suono in più che effettivamente rende merito a questo strumento. Quindi la nuova linea Angel, la linea Angel che è insomma rispetto alle tradizionali dreadnought, la linea Angel è una forma grande auditorium, anche qui nei vari legni Blackwood, dacelo del Queensland, oppure palissando, insomma spalla mancante o spalla piena, quindi diciamo queste sono le novità per Colc Lark che abbiamo portato qui all'acoustic meeting. Altra novità molto interessante, qui abbiamo Tanglewood, che è insomma prodotti già insomma sul mercato da un po' di tempo, la linea sicuramente che in questo momento sta andando fortissimo, è la nuova linea Gran Reserve, strumenti tradizionali di varie forme, dreadnought, jumbo, pallor, o anche tipo G45 e solo del resto, strumenti molto bene, ben finiti, con Eribion, palissando, a Betengri, ma proprio su una fascia di prezzo molto interessante. Abbiamo anche la Palo Rotta Massello, comunque già in catalogo di questo tempo, e qui abbiamo due Tanglewood uguali, tutte Massello TV15, però con il discorso, essendo noi distributori anche delle corde Cliraton, abbiamo la possibilità di far testare sia le corde Cliraton, che un'altra chitata con le corde Lisir, quindi due corde rivestite per far sentire un po' la differenza di queste corde, che effettivamente piacciono tantissimo, che hanno una qualità di suono notevole. Non nuovo però, insomma, grandissimo successo per l'amplificatore da chitarra acustica della Tanglewood, il T6 combo da 60 watt, e in futuro arriverà il fratellino piccolo da 30 watt, che è stato recentemente presentato da Los Angeles. Invece qui nell'angolo brillo, che quest'anno è particolarmente curato, in quanto c'è anche la presenza di D-Cream Lidler in persona, che ci ha fatto il piacere e l'onore di poterlo avere qui, avevamo uno stage anche sabato e pomeriggio, abbiamo disponibili la nuova linea Voice, che è per la prima volta che arrivi in Italia, che ha come sistema di amplificazione il sistema Anthem della Bex, però customizzato apposta per strumenti bledlock, e nella configurazione tone test molto particolare, in quanto tutti gli strumenti hanno, sono tutte fasce fondo in palissanto, con forme molti diversi, ma anche con forme tradizionali, anche leggermente diverse, però tutte con tavole armoniche diverse, quindi che ha la possibilità di venire qui a Sarzana, può provare la stessa chitarra, con le stesse fasce fondo in palissanto, ma con tavole diverse come Redwood, Cedro Rosso, Abete Zittica, Abete di Rondac, e altri legni e essenze particolari, quindi la possibilità di poter effettivamente capire le sfumature di una tavola armonica, può dare allo strumento. Questa è la nuova linea Voice, che è la novità più interessante per Sarzana. Grazie.